Ma se è un uomo tu gli levi il suo lavoro, il suo posto nella società, ma mi dici che cazzo gli rimane? Quelli che non ce l'hanno mai avuto un lavoro vero e non ce l'avranno mai, mi manchi, anche tu, Bruno io per quell'azienda sono un valore, non so proprio cosa posso fare io, fammi riavere il mio posto. Va tutto bene amore, va tutto bene. Grazie. Grazie. Grazie.